sarò giusto? e poi è carino che si può appunto tutto... è consecutivo tutto collegato sì perché è un'altra epoca è anche un'altra epoca hai ragione questo è il 2018 l'altro cos'è anni 90 mi sembra fatta bene all'animazione di arame come si chiama come si è appoggiato come l'ha cercato di fermare e lo spinge poi lo cerca con la mano per non cercare questo evidentemente fine anni 80 forse anche le macchine erano di quell'epoca infatti sicuramente c'era meno neon meno un sacco di cose che è un'altra epoca che è un'altra epoca Questa è il video di prima di un po' di prima. Lattie di prima di un po' di prima, il Ramura e il Gumi ha lasciato un luogo di Gumi e il Gumi. Le Gumi ha lasciato un luogo di Gumi e il Gumi. Come se vuoi due? è vero che Amura era solo con come prima che morisse anche magari come in realtà era una specie di agente caricato di Amura di spiare o qualcosa del genere, cos'è aver fatto Amura con Kume? è vero è vero, è vero stai al tuo posto, stronzo ok è vero 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 chi è vero è vero è vero è vero iscriviti al nostro canale questo non ci dice niente di gentile questo mica il sereto del club non è stato fatto l'omicidio telecamere di sicurezza non telecrimina mura ha detto che lui e come sono usciti da cloud a questa porta questa telecamera le avrebbe ripresi se avesse funzionato è furbo a avere una prova che era ancora rotta e se dove possa essere proprietario so chi chiedere la sensazione è che la trovo al solito posto al mantà intera caffè bisogna per forza passare così cos'è cos'è che versi questa matteo è la nuova piazza del teatro dove c'era la banca re la tizia che ci ha dato la cosa da mangiare makoto possiamo dire che è un po' più dettagliata ovviamente ok qua ecco io questo non so esattamente visto che poi dovevo riprendere il stream da dove sono arrivato in teoria se fa l'autosave dovremmo poterci fidare l'autosave ok ok ci ma tra poco mi fermo anch'io vediamo qua no ah ecco chi è ciao intanto buon weekend in caso no 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 non è quella la su come su come coi tu su come ma 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 ... Cosa che sono state in un sacco di cuore? Cosa che ci sono? Non ci sono. Ci sono dei sottotitoli. Ci sono dei sottotitoli. Ma cosa? Ma potete farvi un smartphone? Sottotitoli? Sottotitoli? Sottotitoli... 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 Cosa? Ah, è un'applicazione di un'applicazione di riconoscimento. Ma se non si tratta di farmi di questo, questo è anche un'applicazione di riconoscimento. Cosa? Cosa fare? Si, dovrei andare in un sistema, quindi viaggiamo un po' un po'. E' meglio. Ok, per esempio. Buongiorno, guardate questo video. e io mi te che da sarei taveci di una ricca che un sacco ad oire te mi maestro mazo a nama e cara desca ma già a ragazzi c'è un sacco di caro se va mette mi maestro torri ai tuoi modella di oggi ora con noi ogni da rega da yutta de tibiai tabaccio ma chi su jo de確認できる no desu ma sono per me ne ha cambiato che indietro che si stiamo in città ma l'argo ma l'argo un c'è chiacchia con i giocatori un pochetto si voli comando ai tuoi che ma senna e io arretta mona della stella città il voto non ande moire te mi ma soccar il ragammi c sa chiudono mi se non la mai oi te ma stani camuro chono club Amur a tutti Allora, adesso Allora, Allora, Ci sono Quello E Il posto Stare a vivere Non so Trovare vitamina D, trovare una donna. C'è un po' di ragioni. Eh, questo serve per salire. Ok. Allora, tu dici che c'erano delle cabine, ma... Non lo so. Per me non esistono più le cabine, in questo qua. E qua c'è... Intercaffè. Se no, la stragiochi, sì. Club Seag è ancora lì. Ah, non so. Dettagli, cos'è il dettaglio, cos'è? Non veicinente, cerca di mapparlo. Questa è la zona di ricerca. Questa è la zona di ricerca. Questa è la casa di ricerca. Non veicinemente. Allora. Alla prossima 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 Alla Alla prossima 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 Video video Alla prossima 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 Alla prossima